Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Forte scossa, registrate in Italia in questi minuti. Prima di vedere i dettagli, una piccola curiosità, in pochi secondi, sui terremoti. L'Italia è un paese a elevata sismicità. Da nord a sud nel corso dei secoli si sono avuti numerosi terremoti, anche di forte intensità, che hanno provocato ingenti danni e numerose vittime. Nella mappa di pericolosità sismica dell'Italia, redatta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si vedono in viola le zone a maggiore rischio sismico. È evidente che la Sicilia rientra tra le regioni a maggior rischio. Ed è proprio qui che è stata appena avvertita una scossa con magnitudo 3,8. La terra trema ancora. Una scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Sicilia, con particolare risentimento sismico a Trapani. Il sisma è avvenuto intorno alle 16.53 di giovedì 22 dicembre, con epicentro sull'isola di Favignana. Numerose le segnalazioni anche se si è trattato di una scossa con magnitudo 3,8 e l'ipocentro individuato dai sismografi INGV a 22 chilometri di profondità. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie. 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 Grazie.